cosa dice l'articolo 1 della costituzione italiana l'articolo 1 della costituzione italiana fa parte dei 12 articoli dei principi fondamentali indicati dalla costituzione italiana in questo articolo viene definita la forma di governo esistente in italia in italia abbiamo una repubblica democratica fondata sul lavoro la sovranità appartiene al popolo sovranità non senza limiti una sovranità che si esercita nei limiti della costituzione anche se il popolo ha tutta la sovranità perché sceglie i suoi rappresentanti non può fare tutto deve rispettare dei principi fondamentali dei principi fondamentali indicati e la costituzione italiana che è entrata in vigore il primo gennaio del 1948 e e e Grazie a tutti. Ciao al prossimo video, vi aspetto. Grazie a tutti.